Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic! E benvenuti in un nuovo video in un altro mondo virtuale. Ma lo sponsor di oggi è Ukies! Che anche quest'anno ci accompagnerà tutto l'anno con le sue offerte. Ormai sapete benissimo come funziona il sito, cosa potete trovare e soprattutto la modalità per comprare le chiavi a meno. E sapete benissimo che l'offerta più interessante è ovviamente sulle chiavi di Windows, che quest'anno tra l'altro sarà particolarmente un argomento caldo. E come al solito inserendo a carrello il nostro codice sconto PD20 avrete sia Windows 10 che Windows 11 in sconto rispettivamente a 15 e 20 euro. Tutto quello che dovete fare è appunto come al solito riempire il carrello di tutte le chiavi che vi servono, arrivare alla procedura in cui trovate il campo codice promozionale, inserire PD20 e andare direttamente all'acquisto con il metodo di pagamento che preferite come sempre. E oltre a Windows c'è anche tutta la parte di suite di Office che trovate scontata sul sito. E adesso come al solito vi mostriamo, una volta recuperata la licenza, quali sono i passaggi da effettuare per l'attivazione della licenza. Noi ancora una volta ringraziamo Wookies per essere nostro compagno di avventure per un altro anno ancora. Ma fateci sapere se avete acquistato o acquisterrete su Wookies. Torniamo al video. Recuperati i due Vision Pro, vi abbiamo già portato le nostre opinioni, la nostra recensione approfondita, ma questo non significa che abbiamo smesso di usarli, anzi. Abbiamo provato a vedere se effettivamente si può fare qualcosa di figo per certificare che non facciano completamente schifo, che non siano abbastanza inutile. Inutile credo sia la parola più giusta riferita al Vision Pro. E forse qualcosa l'abbiamo trovata? Forse qualcosa che gli dà quel quid in più l'abbiamo trovato. E ovviamente voi direte, che cazzo ci avete fatto che non avete già fatto nella recensione? Nella recensione ci siamo di fatto concentrati molto di più sulle caratteristiche del prodotto, la qualità generale del prodotto, di tutto quello che Apple propone anche, e di come vuole vendere il prodotto in sé. Ma manca una bella fettona, che è quella di cui di solito si parla di più legata al mondo dei visori, ovvero il gaming. Su Vision Pro si può giocare su qualche gioco con Apple Arcade, come hai detto nella review. E ovviamente è un po' poco, perché al di là di Fruit Ninja e tutti quei giochi che erano spopolati all'inizio dell'era degli smartphone, perché facevano divertenti e facevano fighi, giochi che oggi come oggi, ecco, sono quello che sono e corrispondono appunto a poco. Quindi mi hanno cercato di usarlo, perché ha due lenti dal punto di vista proprio come display, che sono assolutamente le migliori in un visore voir attualmente. E quindi si può sfruttare in qualche modo questa cosa, Loh? È probabilmente uno dei punti più positivi che abbiamo anche, diciamo, elogiato durante la recensione. E sfruttare si può sfruttare come? Al di là di Crunchyroll, Apple TV e Disney+, e anche Netflix perché devi andare sul sito. Abbiamo parlato di guardare film nella recensione, guardare contenuti, che è fighissimo, perché effettivamente tu ti puoi gestire la schermata come se fossi al cinema, letteralmente, a casa però. Quindi metterti tutti i contenuti che vuoi a dimensioni gigantogalattiche e perché non fare la stessa cosa anche per il gaming. Quindi tutti i sistemi che possano permetterci di utilizzare non per forza appunto l'hardware di Vision Pro, come accade magari con tutti i giochini di Apple Arcade, ma qualcosa di un pochettino di più. E quali sono i due sistemi da gioco più utilizzati in questo momento? Beh, Steam e PlayStation 5. Quindi abbiamo cercato di portare queste due versioni di gaming sul visore Apple Vision Pro. E si può fare, ovviamente, come abbiamo già sottolineato, Vision Pro è inputless. Quindi non si può di fatto utilizzarlo come visore, come magari avreste potuto fare chi ha avuto la possibilità di provare un visore su PC, quindi utilizzarlo sincronizzato con Steam per usufruire di giochi VR in sé. Si può utilizzare però lo Steam Link, quindi quello che è il collegamento in remoto della macchina. E ovviamente si può utilizzare attraverso il proprio account Steam sulla stessa rete locale. Possiamo streamare tutti i giochi nella nostra libreria, la nostra libreria di Steam è alquanto grande. E quindi siamo riusciti appunto a streamare diversi titoli, portandoli direttamente sul Vision Pro. E devo dire anche in maniera abbastanza facile, perché l'app è direttamente disponibile sullo store di Apple, sulle compatibilità, quindi sulle app per iPhone e iPad. In due secondi l'abbiamo installata e siamo arrivati a streamare i giochi, come vedete appunto nelle immagini. Abbiamo esattamente un mirroring di quello che avviene sul tuo PC, quindi abbiamo sincronizzato un controller, quindi il controller PlayStation, il DualSense al visore, perché tramite Bluetooth è compatibile. E quindi siamo in gioco, abbiamo provato proprio a giocarlo e ovviamente come funziona? Bene, cioè il funzionamento è assolutamente positivo, il problema è che ovviamente si perde un po' della figata di utilizzare il Vision Pro, che quindi ti permette di allargare un monitor fino a 100 pollici, perché ovviamente strecci. Nonostante noi l'abbiamo provato su una 4090, è ovvio che la risoluzione massima è 4G, questi qua sono più di 4G per occhio. Oltretutto c'è un'altra limitazione per questi sistemi, perché sì, lo abbiamo detto, è inputless, ma fa affidamento su una tecnologia di Wi-Fi che non è neanche l'ultimissima, non è la più aggiornata, neanche un 6E per dire, ma è un Wi-Fi 6. Quindi tutto quello che riguarda magari lo streaming da macchine, anche in locale, di contenuti, non solo video, ma anche giochi, ha comunque delle limitazioni, quindi è un po' limitato dalla tech in sé. Ma ovvio anche, non è che senza Wi-Fi 7 o 6E non si può fare, però è ovvio che anche l'app di Steam in sé, comunque il fatto che è tutto compatibile, ma non tutto funzionante, fatto bene, nativo, è ovviamente una limitazione. Però si può fare, abbiamo giocato, si può fare benissimo. L'utilizzo sul monitor di questo tipo, perché i display sono veramente fighi, con un'applicazione e con appunto qualcosa di compatibile nativo, potrebbe essere una funzione interessante, per rendere questo Vision Pro un companion device interessante. Anche perché a differenza del gaming classico, diciamo, potete immergervi un pochettino di più in un ambiente virtuale, quindi anche escludere tutto il resto un po' meglio, uno schermo grande, ve lo allargate un po' come vi pare, e vi immergete in quell'environment che Apple crea in automatico per Vision Pro. Anche perché l'audio si sente attraverso l'audio spaziale di Vision Pro, e quello è veramente buono. Quindi l'immersione totale, se poi mettete, girate la rotella, mettete la modalità VR al posto della modalità realtà aumentata, e cavolo, avete veramente un'immersione quasi totale del gioco, avete davanti 100 pollici, un audio veramente importante, siete assorbiti. Se ci fosse quella risoluzione in più, e ovviamente quegli artefatti in meno dovuti dallo streaming, cazzo, sarebbe veramente qualcosa di figo. E allo stesso modo, discorso valido è anche per quello che si può fare da PlayStation, perché come detto, sì, Steam è sicuramente più casa nostra, quindi quello che possiamo avere anche noi migliore a livello anche di librerie, tutto quello che può essere un'abitudine nostra di giocare, ma anche quello di PlayStation è uno dei metodi più utilizzati, quindi si può anche quello utilizzare su Vision Pro. Attraverso però un'app che non è appunto di PlayStation, ma appunto un'app di terze parti, ci permette di fare il Mirror Link, con un po' più di casino sto giro, però siamo riusciti a farlo, e anche qua funziona bene, funziona anzi perfettamente, sempre col DualSense, siamo riusciti a giocare a Spider-Man 2, come vedete, tranquillamente. Ovvio, qua siamo ancora un po' più brutti dal punto di vista della qualità delle immagini, perché PlayStation streama ovviamente nella qualità, ma anche i giochi nativamente girano a 1080p, la maggior parte, qualcosina in più bassa risoluzione, nelle modalità ovviamente più leggere, però quella è, non siamo di certo in 4K nativo come la 4090. Ma come vedete in ogni caso, nonostante tutte le limitazioni derivanti dalle applicazioni in sé, la qualità e la possibilità di giocare anche su sistemi Sony in link, diciamo, in streaming, è buona, si può giocare tranquillamente anche a PlayStation in un ambiente virtuale come Vision Pro, quindi anche molto più immersivo a livello di gaming. Non sopporto tanto la visione di Apple su queste cose, proprio la sua verticalità, che poi è anche la sua forza, l'essere chiuso nel proprio ecosistema, però cavolo, quando compri un dispositivo del genere, ci sono robe che non sono neanche in concorrenza con te, perché dai, PlayStation e Steam, che te frega, dai, veramente, parliamoci chiaro, metti, fai qualcosa, rompi le palle per avere qualcosa di compatibile al D1, e sono veramente delle feature che possono essere veramente interessanti, soprattutto quando hai due pannelli di questo tipo, che anche noi, che non apprezziamo il visore, ma cerchiamo di essere il più oggettivi possibili, non possiamo che ammirare, perché sotto quel punto di vista il Vision Pro non è criticabile. Probabilmente, e qui anche la campagna marketing che c'è stata su Vision Pro lo sottolinea in qualche modo, il gaming non è esattamente la mira di Apple, quindi anche il fatto che sia uscito banalmente senza una YouTube come applicazione, figuratevi se fanno un'app nativa ben integrata e ben sviluppata per fare lo streaming da Steam o da PlayStation. Lo capiamo anche che probabilmente le priorità sono altre, però per vendere un prodotto del genere queste sono figate che potevano starci benissimo, cioè sono delle funzioni che possono rappresentare un utilizzo veramente figo della macchina e del dispositivo. Cioè, soprattutto su Formula 1, come vedete, è veramente immersivo, se ci fosse più risoluzione, una qualità di streaming migliore, veramente potrebbe essere figo giocarci, perché l'immersività che ti dà la VR, ok che puoi giocare un visore su Windows con VR perché Formula 1 supporta la VR, però anche con un visore di questo tipo, che lo prendi per un altro ecosistema, può essere figo usarlo, è un peccato. In definitiva, il gaming su Apple Vision Pro è possibile, ma così è così. In generale noi abbiamo provato solo questi due sistemi, ve li abbiamo documentati a video, ma abbiamo fatto delle prove anche con xCloud, quindi con il sistema che include anche tutto il Game Pass, quindi si può anche accedere ad altre librerie. Rimane lo stesso problema, non ci sono app, diciamo, pienamente compatibili, nativamente compatibili, quindi soffrono di tutte le mancanze, di tutti i porting di compatibilità derivanti da un'app magari per iPhone o per iPad. Quelle così come il GeForce Now, ad esempio. Ma quindi, dopo aver visto questa parte di Vision Pro probabilmente conclusiva della nostra copertura, fateci sapere cosa ne pensate in maniera definitiva di questo visore. E alla prossima, ragazzi.